Com'era un look da spiaggia ottocentesco? Un articolo del 1888 del giornale fondato da Charles Dickens ci spiega che al mare era assolutamente essenziale un guardaroba molto vasto. Questo perché rispetto a un'uscita in città o in campagna si doveva essere pronti a una maggiore vaghetà di occasioni e di avversità. Fare una passeggiata sulla sabbia voleva dire mettere a rischio calze, calzini, stivali. Il sole faceva scolorire i cappelli e l'articolo sconsigliava in particolare di indossare il blu, quello più soggetto a variazioni di colore. Inoltre nelle località di mare anche oggi può esserci una differenza di temperatura notevole tra giorno e notte, quindi si portavano sì vestiti estivi ma anche capi invernali per passeggiate serali e non poteva mancare il cappello. Quello giusto era quello che rimaneva ben saldo anche durante una tempesta. Ci sorprende però sapere che il costume da bagno non era obbligatorio, non perché fare il bagno non fosse pratica comune, anzi, ma perché se si sceglieva di non portare un costume c'era sempre una cosiddetta bathing woman in spiaggia, cioè una signora che affittava costumi da bagno. Chiaramente avere il proprio costume era caldamente consigliato, sia per ragioni estetiche che igieniche. E come erano fatti i costumi al tempo? Beh, eccone qui degli esempi diciamo un pochino differenti da quelli attuali.